Oggi vi presento una vera rivoluzione nell'ambito delle protezioni perimetrali MicroRay, la prima barriera con raggi a microonda di CIRS Tradizionalmente le barriere a microonda sviluppano un logo volumetrico di certe dimensioni ottime nei contesti ampi Invece MicroRay sviluppa un raggio lineare con un diametro fisso di 40 cm per tutta la lunghezza dei suoi 100 metri Ma quali sono i reali vantaggi di questa innovazione tecnologica? La microonda si è adattata a coprire anche corridoi più stretti larghi fino a un solo metro Per queste sue caratteristiche è una valida alternativa alla tecnologia infrarossa MicroRay in quanto microonda non presenta disqualifica e non necessita di riscaldatori di conseguenza ha consumi estremamente ridotti È totalmente immune ad eventi atmosferici come nebbia, pioggia intensa e abbagliamento Consideriamo anche il fatto che eventuali oggetti presenti nel sito non generano allarme a differenza di una reale intrusione La barriera è modulare con torri alte 1, 2 e 3 metri dove all'interno possono essere installati fino a 4 raggi La cover non necessita di una particolare manutenzione ed è totalmente verniciabile quindi inseribile in qualunque contesto anche dove il fattore estetico diventa importante Riassumendo, questa tecnologia è affidabile, semplice da installare e di alta sicurezza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti